È stato un momento di approfondimento ma anche di confronto infrastrutture per lo sviluppo della Sicilia e il commegno tenutosi a Palermo negli spazi di Confindustria Sicilia. Parliamo di infrastrutturazione importante e portanti a partire da quella della Fiera del Mediterraneo che deve essere un volano per questa città in termini di trasformazione e riformulazione dell'offerta turistica a livello locale e non solo. Palermo sta vivendo una stagione felice di presenze turistiche ma non basta, la città deve essere responsiva. Le parole del primo cittadino Roberto Lagalla hanno dato il via ad un appuntamento dedito alle prospettive di sviluppo delle filiere connesse alla logistica per il rilancio dell'economia siciliana. Una riflessione dal taglio non unicamente economico che guarda il futuro della Sicilia e alla quale ha preso parte anche il presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana. Noi gente del Sud dobbiamo spendere le enormi risorse che abbiamo a disposizione, spenderle entro il 2026 e soprattutto spenderle bene in modo da poter competere ad armi pari con il resto d'Italia. Nella sala Terrasi di Confindustria più volte è stata sottolineata l'importanza dei fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quanto la politica possa fare tutti gli sforzi che vuole, ma che senza una strategia reale e unitaria è difficile poter sperare risultati adeguate all'attuale scenario. Scenario rimarcato dall'assessore regionale Alessandro Ricò e dal presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, è ben descritto infine dall'onorevole Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR. Oggi abbiamo bisogno di pochi grandi obiettivi da realizzare, obiettivi che possano cambiare la prospettiva ad un territorio. Si tratta di fare scelte con lungimiranza, non si possono distribuire le risorse a pioggia, serve responsabilità da condividere con il sistema datoriale. Ci aspettano mesi intensi di confronto con la Commissione europea, dobbiamo affrontare le scelte sul tema di sviluppo e coesione. Ogni tanto il dibattito politico regala gioielli. In questa next generation abbiamo il dovere di dire la verità. L'Italia beneficia di questi soldi perché siamo il Paese cresciuto o meno rispetto agli altri, il Paese che registra i livelli più bassi di occupazione. Stiamo gravando sulle generazioni future. Abbiamo la necessità di costruire un sistema di interventi adeguati. Dobbiamo investire, responsabilmente, ragionare, guardando alle esperienze economiche degli altri Paesi. Conclude Fitto.